cari amici di di pomeriggio eccoci tornati al nostro momento così milanese voglio introdurre così il nostro amico simone zappacosta l'uomo da milano colui che ci svela ogni segreto di questa metropoli soprattutto i segreti che riguardano la musica gli eventi la cultura milanese ciao simone ciao barbara buon pomeriggio a tutti caro simone come ogni settimana io fremo dalla voglia proprio di sapere che cosa è successo a milano in questa settimana ci porti sempre in giro con te ci fai scoprire tante nuove anche modalità di fruire la cultura l'arte la musica e dove sei stato caro simone questa settimana questa settimana sono stato in piazza duomo perché c'è stato come tutti gli anni il concerto di radio italia live che è un po' l'apripista degli eventi all'aperto qui soprattutto a milano appunto perché da qui in pratica a muovere con questo con questo concerto esatto si dà un po' così via alle così al ai concerti agli eventi estivi per milano ma non solo perché tra l'altro cominciano proprio parte da milano il tour per l'estate di tanti cantanti che poi vedremo anche nelle nostre piazze nei nostri luoghi di spettacolo sì sì è proprio il via libera le manifestazioni all'aperto diciamo nonostante la sfortuna che ci sia stata una pioggia una bomba d'acqua poco prima del concerto durante il concerto poi c'è stata una tregua per fortuna per noi che eravamo lì eramo tantissimi e quindi è stato l'inizio dei festival all'aperto sotto la pioggia però senti dov'è stato il concerto proprio in piazza duomo proprio di fianco per lo meno non c'era il fango ecco diciamo no no almeno quella no si stava benissimo il terreno era praticabile anche 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 il nostro dal il nostro nico dalla regia mi facendo che sapeva del concerto avrebbe tanto voluto partecipare anche lui ma invece era qui a lavorare con noi invece tu sei andato si è andato a vederlo mentre parliamo possono anche passare delle immagini dalla regia e ecco voglio dire insomma cantanti devo dire possiamo vedere c'erano insomma i grandi no sì come è sempre questo evento di radio d'italia porta i più grandi cantanti italiani appunto soprattutto quelli più forti nel momento c'erano gazzelle che vedremo anche in abruzzo quest'estate appunto per parlare di come si parte da qui per poi essere in tour un po in giro per tutta italia c'era alessandra moroso c'era gioli e qua tanti che vengono appunto da sanremo quindi con uno spot tra le spalle c'era ma mood c'era emma c'erano i decolors c'era angelina mango appunto la fresca vincitrice di sanremo e partecipante all'eurovision esatto era tornata in quel momento praticamente perché è stata all'eurovision fino proprio esatto era appena tornata non ha fatto in tempo a passare per casa è salita subito sul palco non si è cambiata non si è cambiata è venuta su con i vestiti dell'eurovision con i costumi di scena sì e soprattutto c'era anche gianna nannini grande rappresentante del rock italiano sì gianna nannini tra l'altro è proprio in uscita è uscito un tutto il film che la riguarda la riguarda la sua vita la sua ascesa così la sua carriera dal dall'essere una ragazza una normale ragazza siena fino insomma al grande successo sì sei nell'anima che è un progetto un po' a 360 gradi del suo della sua vita e del suo lavoro infatti e quindi insomma gianna nannini che tra l'altro abbiamo avuto a più riprese qui in abruzzo ma voglio ricordare proprio un concerto bellissimo che fece in natura per abruzzo dal vivo a cortino una scenografia meravigliosa fatta di monti perché era su questo su questa piano su questo piano su questo alto piano e dietro c'era proprio una una tutta la catena montuosa insomma un colpo d'occhio eccezionale bene che cosa hanno cantato i più grandi successi immagino hanno cantato le loro ultime uscite ovviamente per fare un po di promo la loro discografia ma soprattutto i grandi successi sia di sanremo dell'ultimo sanremo per chi ha partecipato in generale della loro discografia totale quindi un paio di pezzi a testa e si il concerto scorreva velocissimo nonostante la pioggia molto bene abbiamo visto un po di immagini insomma è chiaro che ti sei divertito più tu lì però a noi comunque è arrivato è arrivato quel clima già si sente nell'aria proprio la voglia dei concerti estivi del di andare a vedere i nostri beniamini tra l'altro sono uscite appunto le date sono uscite le piazze su cui poi gireranno eccetera quindi c'è già una corsa all'ultimo biglietto quali sono i concerti che andranno di più quest'estate simone secondo te ma secondo me l'onda di sanremo è quella più forte quindi i cantanti che hanno partecipato al festival sicuramente nei tour avranno un pubblico assicurato grandissimo perché la partecipazione che c'è dal pubblico al festival poi si riversa sul parterre dei concerti cioè sanremo comunque resta una grande vetrina con una forza promozionale insomma sempre importante sì sì dura dura quasi un anno perché da sanremo fino al sanremo dopo l'onda è sempre sempre trascinante che trascina tutti i partecipanti senti oltre al concerto di radio italia però mi hai portato anche hai portato i nostri telespettatori chiaramente anche un'altra curiosità un'altra cosa che è successa lì a milano dove tu sei presente sì venerdì 17 è uscito il nuovo album di billy eilish hit me hard and soft e il suo terzo album in studio una ragazza un fenomeno una cantatrice statunitense che è nata nel 2001 e ha già vinto tutto quello che poteva essere vinto in ambito musicale non infatti è fresca dalla vittoria nell'oscar per la canzone originale nel film barbie nel 2024 addirittura aveva vinto un altro nel 2021 con no time to die quindi un prodigio assoluto era anche già stata messa tra le 100 personalità più influenti di forze fenomeno incredibile e per alcuni fortunati tra cui io hanno avuto la possibilità di ascoltare in anteprima quindi qualche ora prima che la tra che l'album venisse distribuito su tutte le piattaforme di questo album in un cinema a milano quindi approfittando del sound system del cinema quindi dolby atmos immergersi proprio nei suoni di questo capolavoro che è uscito appunto questo venerdì di billy eilish tra l'altro lei diciamo l'ho vista no appunto durante le premiazioni particolare mi ha colpito proprio l'intervento che ha fatto durante ha vinto anche questo golden globe proprio a gennaio quest'anno sempre per la la canzone del film di barbie e e mi ha colpito questo rapporto proprio strettissimo con il fratello che proprio lei dice non sarei non sarei qui e non sarei così se non fosse per lui c'è proprio un grande amore per questo fratello che l'accompagna insomma l'aiuta ed è fa parte proprio del del team creativo sì c'è una simbiosi tra i due perché effettivamente il producer di billy eilish è proprio il fratello pinas grazie al quale poi lei è uscita fuori perché il primo disco quello che l'ha portato la ribassa nel 2019 e anche l'epi prima che aveva acceso un po i riflettori degli addetti ai lavori su questa ragazza era stato proprio costruito da lui insieme alla sorella nella loro cameretta quindi è lì che nasce il bedroom pop che è la terminologia con cui si si categorizzano questi lavori nella loro cameretta avevano costruito quest'album che poi hanno riuscito a pubblicare grazie alle etichette americane ed è diventato un capolavoro assoluto riconosciuto in tutto il mondo con milioni di premi quindi insomma veramente il sogno non solo americano ma il sogno musicale cioè questo è proprio il sogno di ogni ragazzo che magari nel garage di casa con gli amici si mette a suonare con la con la e a creare insomma qualche volta i sogni diventano realtà come nel caso di billy elish tra l'altro questa ragazza che ha proprio anche un vissuto personale emotivo particolare ecco durante la premiazione golden globe ci ha tenuto proprio a puntare la luce su quelle che sono le problematiche mentali e la depressione in particolare quindi insomma poi ecco toccano dei temi importanti lei tra l'altro più di una volta ha posto l'attenzione su quelle che sono le malattie mentali e il l'importanza no di di parlarne di di cercare di di trovare una strada una strada che non sia una un negare le problematiche sì sì è un tema a lei molto caro e cerca sempre di accendere i riflettori su queste problematiche ogni volta che ne ha l'occasione come nei suoi concerti o nelle sue apparizioni in tv o le premiazioni è molto è molto legata a questi temi ecco quindi insomma voglio dire è importante perché lo vediamo tra l'altro puntata dopo puntata con te cioè questi ragazzi sono giovanissimi hanno grande successo hanno fortissime vendite quindi anche tanto denaro tanta fama tanta eppure guarda quasi sempre riscontriamo delle fragilità e delle diciamo dei percorsi poi personali profondi importanti a volte molto difficoltosi molto diciamo pieni di ostacoli sì è l'altro lato della medaglia del successo spesso ma poi anche il vissuto di ognuno che poi viene raccontato appunto da questi grandi personaggi che hanno i riflettori addosso poi devono hanno la possibilità anche di raccontarlo e far sentire gli altri non soli spesso certo è la responsabilità di eh avere ecco un megafono in realtà a disposizione quindi tanti tanti cantanti insomma anche altri di altre generazioni insomma me ne vengono in mente tanti ma insomma eh hanno hanno utilizzato la loro fama la loro notorietà per poi portare alla ribalta temi importanti anche politici sociali insomma ehm bene la musica la musica ci piace ci piace ascoltarla e poi ci piacciono anche i temi che porta porta con sé con Simone il tempo è volato la nostra il nostro spazio riservato al nostro uomo a Milano purtroppo è terminato mi piacerebbe veramente continuare a parlare con lui perché ci porta sempre dei contenuti molto interessanti eh belli da vedere ne discutiamo ed è molto eh molto interessante proprio capire eh anche a volte il diverso modo no di ascoltare di eh fruire della cultura e della musica eh a Milano c'è sei ci sono sempre queste le innovazioni che poi dopo qualche tempo arrivano anche dalle nostre parti ehm quindi grazie Simone grazie per il momento grazie a voi perché noi ci ritroviamo comunque la prossima settimana e eh però dobbiamo annunciare che sarà l'ultimo appuntamento per questa stagione di di pomeriggio perché la prossima settimana è proprio l'ultima settimana eh di 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 pomeriggio negli studi perché poi di pomeriggio si sposta all'esterno eh l'abbiamo già detto dove eh succedono un sacco di cose tu ne sei la testimonianza perché l'hai detto proprio oggi si aprono eh si apre la stagione proprio dei concerti dei concerti negli stadi nelle piazze all'aperto e di pomeriggio tra concerti festival e manifestazioni eh sarà impegnato in eh esterna quindi eh caro Simone ti saluto per il momento ci rivediamo la settimana prossima grazie alla settimana prossima grazie a te e grazie amici di di pomeriggio io lascio la linea ai consigli per la regia e poi di nuovo in studio